Il palacrociere di Savona, la E-Bot è sul campo come sempre per farvi vedere il nuovo palacrociere che stanno terminando, prima dell'estate l'inaugurazione, una grandissima festa. Questo palacrociere sta collegato con la passerella al primo palacrociere di Savona che ormai molti voi conoscete. A presto con le news e le finiture. Buongiorno. Buongiorno.